È stato riconosciuto colpevole e condannato a una pena di tre anni dai giudici del Tribunale di Treviso Don Federico De Bianchi, 48 anni, sacerdote della Diocesi di Vittorio Veneto, a processo con l'accusa di aver molestato sessualmente quattro pazienti ricoverati tra il 2009 e il 2010 nel reparto di psichiatria dell'ospedale dove prestava servizio come cappellano. Don De Bianchi è stato assolto per uno dei quattro casi in esame e prosciolto per altri due. Per il quarto il giudice ha invece accolto la tesi della pubblica accusa condannando il sacerdote a tre anni a fronte di una richiesta complessiva della procura di otto anni. È stata la stessa Diocesi di Vittorio Veneto con una propria nota a diffondere l'esito dell'udienza sottolineando che De Bianchi continua a confidare nella giustizia ed esprime la disponibilità a proseguire l'iter giudiziario con la serenità che viene dalla mia coscienza, così ha detto. L'intenzione è dunque quella di ricorrere in appello, azione questa che il Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo, appoggia. Si è detto dispiaciuto il Vescovo per l'esito del giudizio di primo grado e ha ribadito di essere convinto che il sacerdote sia estraneo alle azioni per le quali è imputato.